Ciao a tutti, salve qui ExynCosNikeParla e oggi siamo qui con un nuovo video aggiornamento Allora, il 18 agosto io parto e vado in Italia per vacanze Quindi non ci saranno video per il mese di agosto, basta Cioè, i video che sono usciti ieri sono gli ultimi, avevo in mente altre cose ma non usciranno Quindi, ci vediamo a settembre Per chi, boh, volesse vedere che cazzo faccio i miei meme oppure cazzo del genere Potete perfettamente seguirmi sulla mia nuova pagina Twitter Il link lo trovate nella descrizione Quindi, buon agosto e noi ci vediamo a fine agosto Bye bye